Una delle prossime sere dopo aver smaltito le feste, il viaggio di notte, tutto quello che farete, prendetevi una sera calma e vi guardate un film. Io vi dico il titolo, Casomai, tutto attaccato. Questo film a un certo punto dice un'espressione molto bella, dice così, quando due persone si amano, fanno paura. Sapete a chi? All'infelicità. Grazie a tutti. 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 Io, Emanuele, accolgo te, Anna, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Anna, accolgo te, Emanuele, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Anna, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un applauso possiamo farlo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Happy McDonald's! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!